Il tabù adesso è diventato vincere in casa. Non accade da più di un mese al Gravina che l'ultimo successo davanti al proprio pubblico lo ha ottenuto ad inizio ottobre con il Biceglie. Da quella sfida sono passati più di 30 giorni senza che il primato sia stato intaccato, ma eroso dal pareggio contro il Vultro e la sconfitta due settimane fa per mano del Nardò. Segni di una flessione che la squadra di De Luca vorrebbe scacciare domani pomeriggio nella sfida più interessante dell'undicesima giornata. L'incrocio con la Nocerina è affascinante per l'avversario e interessante per la lotta al vertice, perché i campani sono accreditati a sedersi al tavolo delle migliori di questo campionato e proprio contro il Gravina potranno misurare le ambizioni da primato. Che i murgiani hanno tutte le intenzioni di difendere provando a ritrovare il feeling con la vittoria in casa che manca da più di un mese. Tempi meno lunghi per il digiuno casalingo sono quelli del Manfredonia che però cerca il primo successo al Miramare della gestione catalano. L'ultimo di quella firmata da Vadacca arrivò anche in questo caso contro il Biceglie, mentre all'esordio del tecnico barese sulla panchina del Manfredonia ci si dovette accontentare di un pareggio ricco di gol contro il Picerno. Tanti gol i sipontini li hanno realizzati anche ad Apricena, trovando una vittoria che ha permesso di risalire la classifica e scavalcare il Nardò, sempre più minavagante del torneo e avversario domani. Gli alti e bassi dei neretini sono confermati dalla vittoria a Gravina e dalla sconfitta sette giorni fa in casa per mano della Gelbison. Una buona chance per sistemarsi in zone tranquille di classifica l'avrà il Sansevero che ospita il Picerno, mentre il pronostico non sembra favorire l'Apricena a Potenza. La squadra lucana ha tutte le carte per tenere il passo delle prime, come Gravina e Nocerina.